Grazie ancora per essere qui oggi, una manifestazione bellissima. Ringrazio innanzitutto i presidenti, Presidente Magni, piacere. Dopo ci dici i nomi. Il nostro presidente di Pugli, Lombardia e Unione, Emilia Romagna, è l'unione delle nostre Proloco, che sono il motore di tutte le manifestazioni d'Italia. Fatevi un applauso, che se lo meritano, per creare manifestazioni di assoluta qualità. Ci viene alla Ferrari, che è il marchio numero uno del mondo per gli automobili, insieme alla nostra Riva, che sono il numero uno degli yacht da Sarnico, e sono gli yacht più belli e prestigiosi del mondo, come sapete. Quindi si produce e unisce le nostre due cittadine, Maranello da una parte e Sarnico dall'altra. Comunque oggi la cosa più bella è che questa manifestazione, è molto importante, perché è è il tiruse che dà la solidarietà a un'Emilia Romagna colpita purtroppo della Lombione. Fate un applauso a tutte le popolazioni che hanno subito questa Lombione, e noi abbiamo il polvo rosso, è il polvo della solidarietà. La solidarietà che unisce tutta l'Italia, sempre, in qualsiasi punto, da nord a sud. Quindi è importantissimo questo, perché la solidarietà che deve sempre aiutare le nostre popolazioni, in qualsiasi momento ce ne sia bisogno. Quindi grazie mille a tutti voi, è stata una bellissima giornata. Viva la Ferrari, viva la Riva, viva Paratico, viva Sarnico, e viva il Proloco, viva Emilia Romagna e Lombardia. Grazie al cooperatore giornale Ubi, grazie a questo bellissimo riconoscimento, grazie al nostro assessore al turismo, Lorenzo Bellini, che sta cercando di far funzionare al meglio il microfono, e grazie a tutti voi. L'Italia è bellissima, continuiamo a preservare. Grazie.